È una situazione che chiaramente non dipende da noi, io penso solamente alla squadra di prepararci nel miglior modo possibile perché se così fosse io ve lo auguro sinceramente e onestamente. Credo anche che ce lo mediteremo, soprattutto per la serietà che la nostra società ha sempre dimostrato, ma credo anche per il lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso. Stiamo lavorando bene e saremo pronti in tutti i casi, sia in un certo senso o meno, stiamo pronti per iniziare bene la stagione. Stiamo lavorando bene e mi piacciono molti meglio.